così da vicino li vedo meglio ma ne vengono ragazzi con la scuola ma da quanti anni è aperto perché la serviva come richiamo come pubblicità dell'impresa infatti molti lavori all'estero sono venuti fuori perché vedevano televisione o caspita dicevano ma se una vita ha fatto un museo c'è una ditta seria accendo la luce così vi faccio vedere sì infatti sto vedendo gadget ma su internet c'è filmato di tutto eh ma io voglio il mio ecco questo è conosco che era poi con la società qui che vendeva benzina russa si del 26 del tagli con questo marchio qua poi nel 52 mattei ha fatto il nuovo concorso per il nuovo marchio si e ha messo il cane a 6 zampe per il gas quello la quando vendevano le bombole per la cucina e il serpente per l'olio questo qui è il muro e quello sotto è la miscela non massimo dire il miscelaggio assoluto e e Grazie.